Ciao a tutti, così è come si presentano i cavi della Pro Snake venduti da Thoman sono quelli che servono per le pedali re dei chitarristi e dei bassisti insomma io li ho presi di due modelli di due lunghezze differenti da 30 cm e da 15 cm perché ovviamente ho bisogno di cavi con diverse lunghezze magari devo collegare due pedali che sono distanti l'uno dall'altro nella pedaliera li ho presi con i connettori ad angolo che secondo me sono quelli più comodi e devo dire che la qualità prezzo di questi cavi è ottima ne avevo già comprato degli altri e questi li ho presi insomma per riserva devo dire che la qualità del cavo per quello che costano è veramente ottima i connettori hanno ovviamente la punta dorata sono in acciaio e quindi molto resistenti il cavo come vedete ha questa parte, questa guaina rinforzante nella parte vicino al connettore che ovviamente rende i cavi più robusti e ne allungano la durata ovviamente quindi se avete intenzione di comprare questi cavi dategli uno sguardo perché comunque hanno un'ottima qualità è un prezzo veramente eccezionale perché questi se non sbaglio costano 3 euro una cosa del genere ok, grazie per aver guardato questo video a presto